ciao ragazzi bentornati alle mie lezioni e oggi in questo nuovo video vorrei aprire un piccolo spazio dedicato al mio passista preferito in assoluto giaco pastorius visto che l'altro ieri era l'anniversario della morte e ieri l'altro ieri hanno dato sui cinque film che non ho ancora visto dedicato altrimenti a lui con apparizioni di sting free tantissimi altri mi è venuto in mente anche dopo richieste di alcuni mesi fa da parte di alcuni amici di fare una sezione dedicata allo studio del suo video didattico quindi l'approfondimento perché è una fonte incredibile informazioni di tecniche di argomenti inerenze al basso quindi modern electric bass 85 la famosa video intervista con jerry jenmot bassista storico o onestamente non voglio assolutamente diciamo criticare lo stupendo lavoro proprio di jerry jenmot che se non sbaglio nel libro c'è scritto che le trascrizioni e gli esercizi sono state fatte proprio da lui però molti mi hanno chiesto per difficoltà di lettura per mancanza di alcune parti diciamo del video didattico trascritto mi hanno chiesto di approfondirlo allora la prima lezione dedicata a questo argomento riguarda il primo argomento che giaco fa presente a jerry jenmot ovvero quello dello studio delle melodie fa un simpatico siamo al minuto mi sono segnato tutto 3 30 circa del video quando fa un simpatico riferimento un artista delle mie preferite John Warwick il suo brano Alfie so se lo conoscete è andato a sentire del 66 molto bello e lui fa l'accenno della melodia eccetera 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 ecco già da questo piccolissimo frammento di video didattico si può prendere uno spunto eccezionale ovvero come dice giaco la prima cosa che che studia che studiava scusate purtroppo nei brani era appunto la melodia qualsiasi brano fosse di qualsiasi genere di qualsiasi diciamo stile musicale lui studiava le melodie come studiava le parti di altri strumenti tant'è che dice che non stavo a studiare tanto i bassisti quanto la musica in generale proprio le parti di tutti gli strumenti tant'è che scortate un brano a caso donna lì si sente benissimo che ha proprio nel fraseggio nelle orecchie nello studio le parti dei classici sassofonisti quindi da questo spunto da questo frammento da questo primo frammento del video didattico e se non avete compratelo ho uscito anche tradotto in italiano si può prendere appunto l'abitudine di studiare le melodie quando affrontiamo un brano ora facciamo una prova ad esempio devo studiare un brano di Elton John vediamo Rocketman conoscete tutti quindi come approcciarsi allo studio di questo brano non ho dovuto mettere questo come ce ne sono altri miliardi e io di solito guardo l'armonia quindi se non mi ricordo male che l'ho studiato tempo fa il brano inizia in sol minore i primi accordi quindi su un sol minore do maggiore un po' va la mi bemoli il ritornello è in si bemoli amalgade quindi sulla relativa La melodia parte subito, ovviamente, come sapete meglio di me, con una strofa. Quindi proprio la tonica terza minore, tonica sul secondo accordo, quindi Do, più o meno vado in memoria. Qui c'è la prima frase un po' più, diciamo, articolata, quindi diciamo Mi bemolle, parte dal terzo maggiore, Si bemolle, tonica, o Ban Do minore, nona, tonica, settima minore, tonica, cioè ritornello, quindi va in Si bemolle maggiore, la relativa A maggiore, quindi il brame è abbastanza semplice, e Elton John, Elton, parte dalla quinta, quindi di Si bemolle, parte dal Fa, si riconosce sempre questa frase, in quinta, tonica, terza maggiore. Questo è un esempio per farvi capire come se io poi mi dovessi intanto interiorizzo appunto la melodia, quindi il significato anche appunto melodico di un brano, mi entra la musicalità appunto del brano in questione anche a me, anche a noi che facciamo la parte ritmica, generalmente. se dovessi improvvisare ad esempio su questo brano, avendo la melodia bene interiorizzata, potrei nel mio solo fare dei riferimenti appunto, chiamiamolo citazione alla melodia stessa e aggirarmi intorno, variando quindi le note e le frasi, però rimanendo sempre in tema. come quando io andavo a scuola e si faceva i temi, partivo da descrivere l'Italia, finivo a parlare di com'è bello il sushi in Giappone, ecco andavo fuori tema, così soprattutto nel pop dove andare tanto out, tanto fuori non è molto indicato, ci aiuta appunto questa cosa a rimanere, come dicevo prima, in tema. quindi studiate melodie di qualsiasi genere musicale, dalla classica al jazz, al pop, a tutto, cosa che io non ho fatto più in una vita e me ne petto, e provate a mettere in pratica, con un brano magari che vi piace, questo tipo di studio. ovvero studiate la melodia e poi fate un'improvvisazione qualcosa, toccando via via alcuni passaggi della melodia stessa. spero vi piaccia questa sezione delle mie lezioni, se non è così mettete un pollice in giù, se invece vi piace mettete mi piace, bellissimo gioco di parole, o condividete la mia lezione, così mi fate il mio piccolo, ingrandire un pochino. e ci vediamo alla prossima, che potete trovare sempre su youtube, facebook, sul mio sito www.iborzaghi.com quindi alla prossima lezione e al prossimo video. grazie grazie grazie